Ciao ragazzi, benvenuti alla Unipoldomus, siamo a un'ora dalla gara Cagliari-Sutirol e diamo subito gli undici del Cagliari, vai Laura! Assolutamente sì, perché ci sono alcune novità, Radunovic sicuro non lo è tra i pali, poi difesa a quattro Zappa, Dossena, Obert e Azzi, a centrocampo Nandez, Macumbu e Lella, davanti Mancosu, dietro Lappaduro e Prelez. E quindi la prima novità è Prelez dal primo minuto, te l'aspettavi Laura? E allora, facendo un po' di calcoli magari sì, perché Luvumbo ancora non era al meglio, Pavoletti sappiamo le sue condizioni, quindi era forse la scelta verso cui si era indirizzati, l'altra sorpresa però viene dalla difesa. Esatto, Obert è centrale, lui che l'ha già fatto, Ragneri gli vuol dar fiducia e con Lella ha confermato a centrocampo, quindi insomma tre giovani che possano fare la differenza e la speranza è che Bisoli non metta i pullman davanti. Assolutamente sì, ormai Lella è diventata un po' la certezza di Ragneri, dai! Forza Cagliari ragazzi, buona partita e ci sentiamo in settimana, ciao!